amici di on tv buonasera per una nuova puntata di che calcio vuoi allora mi siete persi un fuori onda clamoroso allora diciamo subito siamo registrati sabato sera abbiamo voluto registrare subito per commentare benevento ternana due a tre perché la partita oggettivamente meritava di essere commentata a caldo meritava anche perché la ternana attualmente prima in classifica da sola cosa che non è che si veda proprio proprio tutti i giorni almeno in serie B avete già sentito Gigi Mania a sto punto di saluto buonasera Gigi buonasera Gianni una ternana fantastica quella di oggi bisogna dirlo perché è andata sotto addirittura 2 a 0 al primo tempo grazie anche a un arbitraggio un po' discutibile per non dire altro ma nella ripresa ha fatto una prestazione eccezionale ha recuperato addirittura andato a vincere meritatissimamente questa partita a casa di una squadra che è attrezzata non è una squadretta è vero non sta in un periodo clamoroso però devi essere anche bravo a sfruttare queste occasioni e poi ripeto sotto dal 2 a 0 era difficile per chiunque non per la nostra squadra che ha fatto un partitone ha vinto ci ha portato in vetta Gigi Manini tu stavi a dire gli indusiasmi no? ecco dicevo a voglia di una partita alla volta il trattorino per carità tutto che è 4x4 turbo intercooler abbiamo detto che anche a te servirebbe un po' di turbo e va bene tutto però però oggettivamente dopo una partita di oggi io penso la gente è uscita secondo me è entusiasta non voglio dire una cosa banale però dico che la squadra deve mantenere i piedi per terra così noi un po' addetti ai lavori i tifosi hanno tutto il diritto di saltarsi anzi è giusto anzi li aspettiamo tutti allo stadio sabato alle 16.15 con il Genoa ha un partitone andrebbe premiata contro uno squadrone perché il Genoa è uno squadrone la Ternana sta giocando bene in questo momento merita tutto l'appoggio del pubblico quindi noi manteniamo i piedi per terra perché il camminato è lungo a parte gli scherzi sono 9 partite le altre stanno tutte lì se vedi ci sono addirittura quattro squadre con un punto sotto a noi quindi è tutto da giocare poi abbiamo andiamo a affrontare due partite da far tremare i polsi perché c'è il Genoa in casa e Bari fuori che stanno a un punto invece i tifosi hanno tutto il diritto di saltarsi perché poi oggi è stata una grandissima prestazione soprattutto nella ripresa ripeto questa squadra merita un grande pubblico non solo col Perugia ma anche in questa grande sfida con il Genoa tra l'altro noi siamo anche gemellati con la Sandorio questa grande sfida meriterebbe anche un internazionale secondo me come nei derby ma io questo non lo so sicuramente non merita l'arbitro di oggi e visto che è mai stuzzicato lo dico tutto passa sotto silenzio diciamo c'è stato un grave errore di Giannarelli sul primo gol e anche questo fortunatamente sarà innocuo c'è però un grave errore dell'arbitro sul secondo gol perché si era visto occhio nudo che Giannarelli aveva preso la palla l'arbitro ha sbagliato poi è stato chiamato al VAR e sembrava insomma che fosse scontata la decisione invece ha avuto pervicacemente mantenere il calcio di rigore secondo me va fermato fino alla fine del campionato avanti questa è la mia opinione l'arbitro va fermato fino alla fine del campionato è un errore gravissimo tra l'altro ribadito quindi io poi ognuno senza che nessuno si offenda è un errore gravissimo da penna no blu nera perché tra l'altro ti chiamano una volta quando non c'era il VAR abbiamo visto grave errore anche peggio di questo per carità però se c'è il VAR ti chiamano i tuoi collaboratori a vederlo lo vedi si vedeva si è visto da tutte le immagini che Giannarelli prende nettamente la palla non è che la sfiora la prende nettamente cambia a 90 gradi e poi dopo abbiamo vinto tutto è tutto è dimenticato ma resta il fatto che ti quel calcio di rigore poi segnato dalla cumina di porta sul 2 a 0 una partita che rischiava di essere chiusa insomma poi l'arbitro secondo me dopo arbitrato secondo me l'unico errore della partita che ha fatto è stato su quel calcio di rigore questo bisogna dirlo anzi negli ultimi minuti del primo tempo sembrava quasi che si sentisse in colpa verso l'Aternana ci ha dato un paio di punizioni che invece erano punizioni per il Benevento dico questo perché poi quando ho detto che col Cittadella c'erano un paio di episodi che secondo me potevano essere calcio di rigore per i nostri avversari a me piace sottolinearlo perché bisogna essere onesti l'abbiamo detto Cittadella-Aternana abbiamo vinto 2 a 0 un paio di episodi ribadisco secondo me qualcuno non è d'accordo erano dubbi oggi la decisione dell'arbitro è scandalosa nonostante l'Aternana abbia vinto e nonostante adesso parleremo di altre cose la decisione dell'arbitro lo ribadisco è scandalosa ma penso che siamo tutti d'accordo su questo punto vero Eugenio? Sì sì io ti dico che l'Aternana oggi è stata fantascientifica come dicevi Crozza quando imita Briatore il secondo tempo è stato da squadra che non solo merita il primato in solitaria ma che merita come dire di essere attenzionata anche dagli organi di stampa e dagli addetti dei lavori che forse anzi da un certo punto di vista ci favoriscono con i fari spenti però insomma dovrebbero anche mettere in evidenza una squadra che non soltanto viene da 5 vittorie consecutive ma che oggi ha dato una dimostrazione di forza clamorosa perché stare sotto i due gol a Benevento non soltanto recuperarla andarla a vincere e poi alla fine come dire chiuderla senza soffrire niente perché Benevento non ha fatto niente neanche sul 3-2 è una dimostrazione di grande forza questa è una squadra ragazzi che dobbiamo fare tutti gli scongiuri dobbiamo pensare come ha detto sempre Lucarelli una partita per volta adesso arriverà il Genova che è soltanto un punto di distacco però vedere dopo tantissimi anni la formazione rosso verde lassù da sola insomma a me fa un certo effetto ti si accappona un po' la pelle è difficile diciamo che almeno per una settimana siamo contenti e felici come fai come fai a non essere contento poi si guardi tutta la classifica ma anche perché poi non soltanto tu vieni da 5 vittorie ma ci sono tantissime cose da dire il spirito di gruppo l'affiadamento la capacità di questa squadra di comunque non mollare mai le prestazioni in continuo crescendo di alcuni giocatori che stanno diventando dei totem poi lo vedremo su sulle pagelle no la capacità anche di giocare laddove hai tanti assenti perché è vero che oggi Benevento ce n'aveva parecchi fuori ma l'Aternana signori ce n'aveva fuori Favilli, Falletti, Culibali, Agazzi, Cavuano, Martella Martella magari non sta giocando, sta in banchina però 5 vittorie forse non era al meglio quindi insomma quando abbiamo fatto i cambi è entrato Pettinari che ha spaccato la partita poi questa dimostrazione che la Rosa è profonda e soprattutto il gruppo è molto affidato io diciamo da opinionista noi dobbiamo cercare di dire ai nostri tifosi che siamo calmi ecco è tutto da giocare però mi rendo conto che è dura perché quando al di là del punteggio al di là della classifica ma quando vedi giocare una squadra così bene con questa personalità diventa dura anche se come diceva Gigi il primo tempo sicuramente è migliorabile sia nell'interpretazione della gara che anche nelle scelte di Lucarelli poi magari ne parliamo scusa mi sono dimenticato di aggiungere una cosa, io ho visto, ve lo sottolineo un pari di cose la prima è che sul 2-2 qualcuno che vedeva la partita con me dice adesso perdiamo tempo noi no? che benedetto è il primo tempo invece no, la Ternana voleva vincere, si è visto, cioè questo è un segno importante si stava scaldando Falletti si, doveva andare a Falletti per vincere la partita poi abbiamo vinto comunque ho un'altra cosa che qui la distanza fra Ternana e Perugia da siderare sta diventando a livello di iperspazio la velocità della luce beh ancora non hanno giocato beh però non abbiamo vinto non abbiamo vinto, poi potrebbero vincere anche loro basta però ci stanno 18 squadre fra noi sì ma basta però basta, basta, non ti curare di loro no vabbè, adesso non bisogna invierire adesso loro fanno lo stadio però io penso che prima o poi noi una puntata su sta questione stadio, centro sportivo cioè tu non puoi intervenire, chiameremo qualcun altro magari chiamiamo Ravaggio ecco te sostituimo a metà puntata perché non è possibile insomma cioè questa squadra merita veramente di potersi allenare sul campo di tutto rispetto e di avere uno stadio degno della classifica che ha e che potrebbe avere anche migliore che ne sai per cui insomma tutte queste perdite di tempo non ci piacciono diciamo così allora per chiosare i vostri interventi il vostro primo giro io dico che sono stra d'accordo con te sul fatto che sia scandaloso il rigore dato al Benevento ma non tanto perché tu ti puoi anche sbagliare sì sì ma quando il VAR ti chiama abbiamo ormai ci abbiamo qualche anno di esperienza col VAR ti chiama per dire guardate se sei sbagliato non ti chiama mai per confermarti qualche volta però no per confermare è difficile ti parla senza chiamarti a vederlo se ti chiama a vederlo è perché dici guarda ma se ti sei sbagliato guardala a me confermarlo è stato come si dice no? errare umano perseverare è diabolico quindi io non dico fino alla fine dell'anno ma sì qualche giornata di stop magari servirebbe per quest'arbitro che poi ironia della sorte è originario della provincia di Perugia ma non conta per cui non conta tutto fa che l'hanno perso perché per questo rigore inventato quello che avrebbero potuto pensare e dire tutti quanti perché alla fine è come se uno tenarmi lo mandi a abitare Orvieto va bene allora che ne so ma di che sezione è? Arezzo è capito è quello che è un po' mi ricordo che qualche anno fa ci ha arbitrato un arbitro che era di Bari o comunque della nostra avversaria però era un'altra sezione però lì sull'arbitraggio io vorrei dire solo una cosa sul rigore vedi che la palla cambia in direzione a 90 gradi è ovvio che l'abbia presa Gianna Rilli perché altrimenti come faceva a girare la palla Gianna Rilli la cumina va dritto allora lui evidentemente ha dato rigore l'unica spiegazione che mi dò pensando che Gianna Rilli la cumina e poi tocca la palla è l'unica spiegazione che mi dò prende tutto però 20 anni fa io quando giocavo si insegnava all'attaccante guarda che se ti esce il portiere sui piedi saltalo saltalo perché tanto il rigore non lo prendi se il portiere prende la palla quindi ti travolge ti spezza una gamba però tu sappi che tanto rigore non lo pigli quindi tanto vale saltare invece adesso gli attaccanti che fanno siccome sanno che quasi sempre pigliano rigore anche se il portiere arriva prima e piglia la palla non si può smaterializzare allora rimangono lì vanno dritti si fanno butta giù e l'arbitro fischia rigore è una cosa ridicola perché 20 anni fa la cumina sarebbe stata ammonita per simulazione io ti ripeto abbiamo vinto e l'argomento può essere anche un altro adesso dice il calcio di riva che ci importa giusto? però è una decisione scandalosa io perché sono abituato a dire che se uno di noi nel nostro lavoro fa un errore leggero è un errore grave ti dicono ma che hai combinato? questo adesso per me perché poi se fosse finire in un altro modo capito? comunque poi ho sentito anche commentatori senza fare nomi a livello nazionale che dicevano che il calcio di riva è indiscutibile questo sempre per il solito discorso della democrazia che permette nel calcio di parlare a tutti ma sì ma allora se le vogliamo dire tutte anche questi canali senza fare nomi che fanno vedere le partite per dire la serie B si vede su tre piattaforme diverse spesso si trova siccome è uno sport nazionale non rionale quello dico non puoi mettere un commentatore di parte ma non lo so se era di parte io questo non lo so io ti dico che dopo cittadella ternana mi sono preso non specifico la piattaforma ma ce n'era una che il commentatore era chiaramente io ti dico che dopo cittadella mi sono preso le vostre reprimende ma è anche quella di tanti a casa che poi quando mi hanno incontrato mi hanno detto tu caccio di riva e te l'hai visto per dire perché bisogna essere onesti tanto ormai ricordi non avranno però non era ricordi Gigi per me non era ricordi però il dubbio c'era però dico nonostante sia di fossa di ternana l'ho detto invece però sembra quasi che ammettere ma lì a dire sì ma io da di fossa da ternana è giusto annullare il gol che ha fatto Donnarumma oggi perché dico da tifoso commentatore Benevento dire che il calcio di gol non c'era che cosa costa tanto te l'ha dato questo dico tanto te l'ha dato esaltiamo l'apprezzazione no ma infatti detto questo stavo finendo io devo dire che sono stracontento perché perché secondo me non è che capita tutte le volte di risolvere a parte di essere primi ma deve vincere una partita 2-0 in trasferta a Benevento è capitato col Perugia no? è capitato col Perugia sì ma siamo retrocessi quello è stato il canto del cigno quindi forse no speriamo però non possiamo pensare che le partite le vinciamo in questa maniera qui bisognerà fare un ragionamento dopo sui minutaggi su chi è disponibile chi non è disponibile perché comincia a emergere qualche problema va bene facciamo la prima pausa pubblicitaria ci vediamo tra poco un negozio lube non è un negozio come gli altri sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere lube sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica per questo in Italia la cucina si chiama lube lube blocca i prezzi per un anno prenota subito la tua cucina a terni in via farini di fronte alla co-op centro pneumatici maratta pneumatici delle migliori marche ed occasione a prezzi imbattibili riparazioni sostituzione e manutenzione di pneumatici per auto veicoli commerciali autocarri e rimorchi esperienza e professionalità al tuo servizio è sempre la scelta più conveniente chiamaci per un preventivo o vieni a trovarci in via Alessini 21 a terni telefono 0744 30 14 24 no bambini non si può avere tutto dalla vita sennò mica stavo con mamma non si può avere tutto dalla vita o perlomeno non sempre dr 4.0 full optional di serie anche termo hybrid benzina gpl è in pronta consegna lungo la flaminia tra terni e narni il ristorante regno verde vi aspetta nella grande terrazza panoramica e nei saloni interni per banchetti cresime comunioni matrimoni feste ed eventi con la genuinità dei suoi prodotti agrituristici le carni di qualità superiore e le bontà della cucina tipica locale il ristorante agriturismo regno verde vi aspetta in strada di san paustino 26 a narni telefono 0744 744 4335 allora eccoci di nuovo in studio secondo blocco secondo blocco di trasmissione genni a memoria perché ancora non abbiamo pronte le grafiche le vedrete voi in televisione e su youtube ma non le vediamo in questo momento quindi abbiate pazienza la ternana col 4-3 2-1 contro il benevento 3-4 2-1 la novità che ha proposto il mister è stato Paghera non soltanto titolare ma addirittura a mezzala sinistra di solito Paghera insomma gioca a mezzala destra e la scelta è stata quella di mettere Mantovani terzino destro e Bogdan al posto di Capuano secondo me non sono state scelte come dire proprio al 100% condivisibili perché Bogdan e Sorensen sono un po' due doppioni io vedo Bogdan come il sostituto di Sorensen sono due giocatori molto simili con caratteristiche praticamente identiche e contro giocatori un po' veloci come Teio e lo stesso Lagumina possono andare in difficoltà soprattutto Paghera lì mezzala sinistra a me non mi ha convinto anche perché Paghera spesso cambiava posizione non è stato molto disciplinato tatticamente l'ho visto andare a destra in un paio di situazioni addirittura quasi si scontra con Cassata perché va proprio a occupare la sua posizione di campo e la posizione di Schiattarella molto bassa molto schiacciata sulla linea di difensori lasciava paradossalmente Di Racchio senza un vero uomo su cui andare per cui abbiamo un po' traballato lì poi un altro giocatore che ci ha messo in difficoltà è stato proprio Teio perché insieme alla Tizia proprio per diciamo la loro capacità di spinta e di entrare dentro di Teio ci dava un po' il 2 contro 1 su Mantovani il mister ci ha messo diciamo una toppa alla fine del primo tempo perché è entrato subito Diaghite al 46esimo del primo tempo Diaghite praticamente si è messo a fare il terzino destro a quel punto è uscito Bogdan Mantovani è scalato difensore centrale le cose sono subito cambiate e siamo riusciti a riprenderla a riprendere il 2 a 1 praticamente subito poi sempre sul 2 a 1 c'è stato il cambio di modulo al 58esimo è entrato Moro per Paghera e lì siamo rimasti 4-3-2-1 però Moro è partito dietro a Donnarumma 71esimo del secondo tempo entra Pettinari per Cassata eravamo ancora sul 2 a 1 per il Benevento e lì abbiamo cambiato modo abbiamo fatto 4-2-3-1 a quel punto i 4 davanti erano Moro a sinistra Partipilo a destra Pettinari sotto punta e Donnarumma davanti con Palumbo e Di Tacchio i due centrocampisti l'abbiamo rischiato un po' chiaramente con due centrocampisti di cui uno Palumbo abbiamo perso un po' di copertura però la squadra era talmente in palla che abbiamo spinto fortissimo e poi abbiamo chiuso con un altro modulo ancora perché all'ottantaduesimo quando già vincevamo ci siamo messi 3-5-2 abbiamo fatto Mantovani Sorensen e Diagite difensori centrali Corrado e Ghiro cioè Ghiringhelli gli esterni dei due quinti e poi in mezzo Palumbo Di Tacchio Proietti e davanti Moro e Pettinari andava anche Scelli no? no Scelli doveva entrare poi non è più entrato quindi tre cambi di modulo da parte di mister Lucarelli 4-3-2-1 4-2-3-1 e poi il finale con 3-5-2 e gliel'ha incartata perché direi che è stato perfetto 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 all'inizio non Giove avrà più convinto all'inizio sì l'uniche alternative erano difendi a centrocampo al posto di Paghera ma magari o Proietti però Proietti è più regista più centrale oppure anche se vuoi far giocare a Paghera Paghera a destra è Cassata a sinistra perché Cassata ci ha giocato altre volte a sinistra quando ha giocato con Agazzi invece non ho capito perché ha messo Paghera a sinistra sinceramente e poi comunque è più convincente la soluzione se Diachide sta bene con Diachide a destra e Mantovani centrale che è più veloce ma quella magari Diachide non stava benissimo non se le ha rischiato intanto primo secondo può anche darsi che ha deciso di giocare una difesa un po' più bloccata che Mantovani spinge meno di Diachide ovviamente dopo che doveva recuperare la partita ha messo uno più di gamba che spinge di più sulla fascia accentrando Mantovani e creando una coppia un po' più omo però i due centrali sono in Zenerbog danno destinati a soffrire con la cumina Teglia e Cian perché c'è un passo diverso sì però c'è anche da dire che nel secondo tempo infatti il secondo collo che l'arbitro se l'ha inventato però la cumina è andato via troppo facilmente in velocità c'è da dire che al secondo tempo la Ternana se l'ha mangiato questo non c'è tu penso che potevo giocare pure io a quel punto va bene direi di cominciare a fare in effetti Donnarumma non è che ha fatto tanto meglio Donnarumma il solito giocatore Donnarumma ha fatto la sua solita partita Donnarumma è questo la gente lo deve capire ma penso che lo sappia ormai anche l'ultimo dei San Pietrini di San Francesco che Donnarumma è questo tant'è vero che un ballone gli è arrivato aveva pure segnato se non fosse uscita la palla durante l'arco del calcio d'angolo allora pagelline dai cominciamo stavolta definiamo pure perché siamo veloci allora Jan Arilli per me è 5 l'errore è grave c'è l'errore netto l'errore è grave tu non puoi lasciare la palla dopo vabbè è andato anche bene però l'errore è da 4 io lo sarò sempre difeso cioè quella è come a tennis e palla a volo nel dubbio la palla si gioca sono stati dati sempre bei bei voti per una volta che fanno ma si vede proprio che la lascia quella è l'errore grave infatti che poi l'avrebbe presa facilmente poi dopo per sfortuna prende il palo però non puoi lasciare una palla la lascia si va bene ci sta eh beh in senso onesti se no poi dopo mantovani mantovani 6 e mezzo bene 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 in entrambi i ruoli bene da centrale secondo me è più forte poi ti aiuta meglio sorense secondo me la soluzione per le prossime finché non ci sarà capuano è mantovani sorense sì 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 assolutamente sì a proposito di sorensen 8 e mezzo io 7 e mezzo 8 8 8 le grandi partite la O finale deve essere tronca 8 8 e ti vedevi fermare lì 8 niente questo non riesce non riesce beh io ho 30 anni di esperienza dopo questo ognuno allora io invece ho dato 8 e mezzo perché fa il gol e fa l'assist per il terzo di Dacchio perché forse a qualcuno è sfuggito ma è riuscito anche a fare il terzo ribadisco che l'avevo giudicato male forse ecco si è capito perché ha fatto anche la Serie A con la Juventus ma insomma l'ha fatta con del nero l'ho capito però comunque mamma mia siamo aperti è uno dei migliori questa stagione 6 6 meno 6 meno non ho visto cose che la moglie ha giocato il primo tempo nel quale l'allenato ho capito però il primo gol è un autogol il secondo il rigore inventato cioè non è che però lì te ripeto la cumina ci ha messo più no tempo poi sul gol la cumina è andato via troppo facilmente sì ma non è stata la parte di Bogdan sul gol come insolazione al rigore comunque se va a parte di chi sta sta da parte di Sorensen però va via centralmente l'ho messo sugli appunti tra parentesi Bogdan è stato scambiato con Sorensen poi l'ho messo mi sono dimenticato di dirlo perché se ci fate caso quando comincia la gara lo schieramento è centrodestra Sorensen no centrosinistra Bogdan poi si sono cambiati quindi forse anche per quello lì l'ha spostato va bene sono due destri per cui Corrado otto questa è la pronuncia sette per me sette poi è grande assist a Pettinari io dico otto quella palla che recupera per dare a Pettinari per darla poi a Pettinari non la dà diretta a Pettinari poi passa e arriva a Pettinari ma recupera un pallone con una caratteristica bravo lo premio di Achite sei e mezzo sei e mezzo meglio sette secondo me il secondo tempo è stato fondamentale sì ma a livello tattico sì però una partita buona niente di gramoroso poi che era 5 e mezzo diciamo 6 e meno via 5 e mezzo 5 e mezzo si ha visto poco il primo tempo dai si ma si vede che non ha giocato mai fino a ora è chiaro è andato in difficoltà poi ripeto ha detto bene Gianni a sinistra anziché a destra ha perso spesso la posizione il gol dell'1-0 loro è colpa sua sì esce in ritardo è fuori posizione però se a destra è questa cassata no esce lui il pallone arriva da qua arriva il giocatore in mezzo e lui che ci doveva stare stava tutto più spostato a sinistra fidati di tacchio 7 e mezzo 8 no 8 beh gran gol 7 e mezzo ascolta bene 8 faremo le ripetizioni ah sì 8 8 perché poi fa il gol partita pure forse non è stata la sua migliore la sua sezione però il gol va al voto infatti guarda non è stata la sua migliore prestazione specialmente nel primo tempo però però ragazzi te fa il 3 a 2 lo fa calciando con una determinazione di sinistro subito mette un raso terra bello forte fortissimo poi calcia è quello quante volte vedi un giocatore calciare che non è sicuro no che ha paura di buttarlo in tribuna invece lui lo buca quel pallone no ma questo subito lo buca è quello cassata 6 6 6 ma secondo me stavolta è andato un po' meglio ma io dico che strappa la sufficienza ma per il risultato perché insomma mi sembra molto molto indietro tanto indietro e poi ha giocato fino a un certo punto poi dopo gli ultimi minuti era proprio arrivato dal mio punto di vista si fa sentire allargare braccia ma per carità ma insomma è uno che ha fatto anche altre categorie Gigi è un parente lontano abbiamo detto che questi sono tre scommesse e dopo bisogna ne parliamo un attimo tre scommesse si confermano Proietti 6 più 6 più bravo mi è piaciuto è entrato bene però ha recuperato un bel paio di palloni bravo per me era quasi senza voto però vabbè no no perché ha preso due bei palloni invece questo proprio l'ho notato Palumbo 7 7 e mezzo 7 7 ha fatto un'ottima partita anche lui solo il gol quello di Sorensen fa quella calcio con la punizione con quel sinistro so se avete notato una cosa Cannavalo aveva studiato la Ternana di calcio di punizione di Palumbo perché noi giochiamo sempre sulla palla sul secondo palo invece c'era sempre un uomo a chiudere abbiamo avuto occasioni però c'era arrivato sempre un uomo del bene un'occasione che il primo tempo a me mi sopparsi veramente è un disastro sulle palle inattive infatti però sui grossi di Palumbo si è studiato porta a questi risultati ma noi eravamo più forti di destra come era ma noi in questo caso eravamo nettamente più forti di destra perché Sorensen e Bonzi ecco quindi ogni palla che arrivava alta era un pericolo per loro partipilo sei più sei e mezzo beh per il primo tempo sfiora anche il gol è lì però dicevamo prima dell'inizio doveva proprio tirare lui ha cercato di smarcarlo secondo me pare Ari invece se avessi tirato diritto cerca di smarcarlo lui fa bene il primo tiro lo para benissimo è quello dico dopo per fortuna era fuori gioco se no si mangia un gol secondo tempo secondo tempo l'occasione in cui lui scavalca Palle Ari ma poi viene recuperato il difensore lì lui fa il pallonetto per dribblare il portiere lui mi deve fare il pallonetto per andare a porta è il gol se dà la forza giusto fine prima parte finiamo le paggilline nella seconda grazie